Nome. Francesca. Lia. Cognome. Gerosa. Giovannazzi in Beltrami. Professione. Sono libre professionista nel settore immobiliare. Regista e negli ultimi cinque anni assessore alla solidarietà internazionale e convivenza della provincia autonoma di Trento. Cosa voleva fare da grande? Volevo fare l'attrice. Mi sarebbe piaciuto fare l'antropologa o anche la hostess. Per chi candida? Progetto Trentino. Per il partito autonomista Trentino-Tirolese, il PAT. Il suo miglior pregio? Sono determinata, trasparente e onesta. Mi dicono che sono abbastanza brava di cucinare sia la polenta che il caciucco alla Livornese. Il suo miglior difetto? Quando mi metto in mente qualcosa parto in quarta. Sono terribilmente golosa. Qual è l'ultimo libro che ha letto? Un libro di arte moderna consigliato da un amico. Alessandro Magno di Manfredi, ma solo la prima parte perché non ho ancora avuto tempo per finire le ultime parti. Qual è l'ultimo film che ha visto? Ma come fai a fare tutto? Rivisto per la ventesima volta il mio grosso grasso matrimonio greco. Qual è l'ultimo comizio che ha fatto? Il primo ottobre ad Aldeno. Ieri sera. Chi è il politico che ammira di più? Il politico che mantiene le promesse. Giorgio Postal. Un capriccio che non si è mai tolto. Fare un lungo viaggio dall'altra parte del mondo. Una grande abbuffata di tartufi d'alba al cioccolato. L'ultima volta che ha perso la calma? Questa mattina, cercando di vestire i miei figli. Verso l'inizio della campagna elettorale. È favorevole all'idea del bellunese unito alla regione Trentino Alto Adige? No, ma sono convinta che dobbiamo iniziare a dialogarci. È una questione piuttosto complessa perché la storia del bellunese è diversa dalla nostra storia, quindi non è facile trovare dei punti in comune. Bisogna rifletterci e pensarci su molto. Qual è il suo piatto preferito? Amo i dolci, la torta saccher. Mi piace proprio tutto da mangiare. Se dovessi scegliere in questo momento una buona fetta di pane fatto in casa con un filo d'olio del garda, delle cipolle borrettane e una scaglia di vezzana. Il suo musicista preferito? In questo momento Mika? Nellian. Il brano musicale che le piace di più? Un brano di Ron vorrei incontrarti fra cent'anni. Cowgirl in the sand. Le qualità che preferisce in un uomo? Che sappia dare sicurezza. Il coraggio e la lealtà. Le qualità che preferisce in una donna? La determinazione. L'accoglienza. È tollerante? Abbastanza, ma tutto a un limite. Sì, direi di sì. La prima cosa che farebbe se venisse eletto? Mi piacerebbe presentare un disegno di legge sul quoziente familiare. Una bella festa con tutte le persone che mi stanno aiutando nella campagna elettorale e la mattina dopo rimbocchiamoci le maniche e al lavoro. La cosa più bella della nostra autonomia? Il poterci governare da noi stessi e poter scegliere del nostro destino. La possibilità di avere la libertà di decidere. Qual è il suo motto? Perché ci credo. Abbiamo solo una vita ed è pure breve, dobbiamo viverla al massimo. Qual è il suo portafortune? Un ametista regalatami da padre Paolo Dall'Oglio a Damasco. Non ne ho. Qual è il più bel ricordo della sua vita? La nascita delle mie figlie. La nascita dei miei due figli, qualche minuto dopo la loro nascita. Cambierebbe lo statuto della provincia autonoma di Trento? C'è proprio bisogno di una revisione, ma ci vuole un governo stabile a Roma per poter affrontare con apertura, anche a fronte degli ultimi cambiamenti, proprio il nuovo statuto dell'autonomia. Sì, nell'ottica di rafforzare nella nostra regione. Quali sport pratica? Fondo, camminare in montagna, nuoto e per tanti anni ho praticato l'arrampicata in montagna. Tennis e sci. Quali sport segue? L'atletica leggera e il golf. Tutti quelli che segue il mio marito ogni giorno in tv, perfino la corsa dei cani. Per lei qual è stato il momento più importante per la storia della nostra autonomia? Quando Aldo Moro nel 1967, dopo la strage di Cimavallona, ha decretato la pariteticità delle province di Trento e Bolzano, nel conferimento di competenze dalla regione alla provincia, poi avvenuto col secondo statuto del 71. La revisione dello statuto del 1972. Per lei qual è stato il momento più drammatico per la storia della nostra autonomia? Secondo me è quello che stiamo vivendo, perché siamo attaccati su tutti i fronti a un momento molto delicato e difficile. Gli anni tra il 64 e il 67, quando il terrorismo sud-tirolese ha preso la strada del neonazismo sparando con l'obiettivo di uccidere, questo ha provocato 18 morti. La cosa che le piace di più del Trentino? Il carattere orgoglioso della nostra gente. La roccia. La cosa che le piace meno del Trentino? Direi la politica degli ultimi 15 anni. La maldicenza diffusa. La cosa che le piace di più dell'Italia? La capacità dei nostri cittadini di rialzarsi ogni volta che cadono. Il mare e le opere d'arte. La cosa che le piace meno dell'Italia? La confusione. Una classe politica che agisce senza buon senso. La cosa che le piace di più dell'Europa? L'assenza di frontiere, girare liberamente. Un senso di unità e di collaborazione tra gli Stati? La cosa che le piace meno dell'Europa? La fatica di un ulteriore apparato burocratico. Gli Stati devono imparare a fare squadra, molto di più di quanto fanno adesso. Quanti giornali legge al giorno? Quattro. Due, spesso però la sera tardi. Legge la digitto.it? Sempre, la digitto.it è la fonte di informazione quotidiana. Sempre. Perché la gente dovrebbe votare per lei? Rispondo con quanto mi ha detto una mia carissima amica questa mattina. Perché quello che dico lo realizzo e fino in fondo. Perché credo che si possa cambiare, perché sono ottimista e sono fiduciosa che si possa cambiare. Un ultimo consiglio agli elettori? Il 27 ottobre andate a votare. Se volete incidere nella politica trentina, se volete cambiare e migliorare il futuro del nostro trentino, andate, votate e scrivete Gerosa sulla vostra scheda. Votate Lia Giovannazzi Beltrami.